Qui siamo al Giardino dei Colori di Bottega di Vallefoglia e l'iniziativa è la Pumping Patch, deriva dalle culture anglosassoni, quindi inglesi e irlandesi, dove tutti i bimbi, sia più grandi che più piccini, con le famiglie, amici, possono venire, entrare nel nostro giardino e raccogliere la propria zucca. E poi ci sono tantissime altre attività, potranno intagliare la zucca, ci sono palloncini, zucchero filato, trucca bimbi e eventi mostruosi vari. Da che cosa è nata l'idea? L'idea è nata mischiando la mia passione, che è l'agricoltura e la natura, che me l'ha insegnata mio nonno, che faceva l'orto insieme a lui, insieme alla passione della Gloria, che è quella dei bambini, infatti lei lavora anche in un'agenzia di animazione. Quindi abbiamo cercato di mischiare le due idee e ci è venuta fuori questa idea, che secondo noi è molto carina. Ci tengo a precisare che la missione della nostra azienda non è guadagnare tramite la vendita delle zucche, ma è quella di cercare di instaurare, di influenzare le nuove generazioni, che sono i bambini, che saranno il nostro futuro, e cercarli di influenzare verso i temi sostenibili, farli avvicinare di più alla natura e farli appassionare al territorio, che è pieno di cose belle e che andrebbero valorizzate molto. Possono partecipare sia grandi che piccini, con bimbi, con famiglie, amichetti, e ci troviamo sulle pagine Facebook, Instagram, e possono recarsi direttamente al nostro giardino, qui a Bottiga. In che giorni? Venerdì, sabato e domenica, apriamo dalle tre e mezza, fino a che non fa buio, quindi sette, sette e mezza. Iniziative particolari invece per Halloween? Ok, per Halloween abbiamo tutto il campo, tutto il giardino addobbato a tema Halloween, in più ogni domenica facciamo un evento mostruoso, indicato per i più piccoli, ma anche per i più grandi, e ad esempio abbiamo la caccia al tesoro da brividi, quindi con le comparse vere, e poi facciamo il cinema all'aperto e la costruzione di macchinine, e poi gli spettacoli dal vivo, disputa fuoco, giocoleria col fuoco e spettacoli di tessuti aerei, tutto a tema Halloween. Avete in mente altre idee dopo Halloween? Sì, dopo Halloween abbiamo già in mente la raccolta dei tulipani, che si svolgerà a inizio primavera, marzo-aprile, quindi si potrà venire qua, si potrà raccogliere un tulipano fra più di 50.000 tulipani, di ogni colore, forma e dimensione varia, e ci saranno varie attività presenti nel nostro giardino.